Inizia, diciamo, a questo punto una seconda sequenza, che serve a dirci cosa? Serve a dirci che quella dimensione delle consuetudini non solo funziona come una metaregola, come un insieme di metaregole grazie a cui sappiamo praticare le regole esplicite, ma va anche a determinare la nostra identità più intima. Sempre da Lacaniano, Gijek è un severo critico di questo discorso sull'intimità. L'intimità non è ciò che appartiene alla vita interiore e che è indicibile, appunto, questo oggetto prezioso che abbiamo dentro, che appartiene solo a noi, che possiamo decidere o non decidere di far conoscere agli altri. No, l'intimità è sempre strutturata dal linguaggio, che è il linguaggio pubblico, e una serie di altre cose che sviluppa altrove. Qui gli serve dire che questo tratto più intimo delle identità è là fuori, sono le consuetudini, solo che non sono le regole esplicite, ma sono le norme tacite a cui familiarizziamo nel processo di socializzazione, di formazione, che si scrive anche nel corpo. E sviluppa questo punto, perché appunto quello che sta dicendo è determina la nostra identità e quindi non sono facili da sospendere. Gli interessa riprendere il discorso dell'atto rivoluzionario. Sì, abbiamo detto che l'atto rivoluzionario deve modificare le consuetudini, e qui sta aggiungendo, ma modificare le consuetudini vuol dire modificare radicalmente quello che siamo, la nostra identità. Non è una cosa semplice liberarci dalle consuetudini, ecco, dalle disposizioni acquisite, dagli abitus pratici acquisiti, grazie a cui pratichiamo le parole d'ordine e le norme esplicite. Quindi se l'atto rivoluzionario vogliamo parlare, se l'atto rivoluzionario è quello che ci interessa, dobbiamo essere pronti a andare a smontare le radici della nostra identità, che dunque non sono questo presunto oggetto prezioso che ciascuno di noi avrebbe dentro di sé, ma sono queste, appunto, processo di socializzazione. Ecco, per sviluppare questo punto fa una cosa tipicamente sua, cioè trova un altro testo molto bello, in questo caso è un saggio di Orwell, Orwell era un socialista, chiaramente come tutti sappiamo è l'autore del romanzo 1984 e poi della fattoria degli animali, quindi dei romanzi importanti con un forte carattere politico, eccetera, ma opera di narrativa. Ma esiste anche tutta una pubblicistica di saggio, di saggistica di Orwell e Gigi qua cita uno di questi testi che si intitola La strada di Wigan Pier. E in questo testo, appunto, Orwell ci fa capire come il nostro attaccamento alle consuetudini sia un attaccamento che è dell'ordine dell'inconscio, ecco, è qualcosa per cui non solo sono stato abituato a questa tal cosa e ci tengo, ecco, e non sono tanto pronto a modificarla. E Orwell, tipica postura inglese, dice, va a vedere questo attaccamento non presso chi lo dichiara esplicitamente, ma presso chi ci fa ironia, no? Dice, certo che un borghese, intellettuale borghese, inglese, sa fare ironia su tutta una serie di consuetudini della cultura inglese, quindi come dire, se ne distacca, ma aggiunge Orwell. Ma quanto sia forte questo distacco, lo si dovrebbe vedere guardando la reazione a critiche contenutisticamente identiche fatte da qualcuno che non è inglese, no? Dice, sì, noi ironizziamo su certe tradizioni, abitudini inglesi, ma se lo fa qualcuno che non è un inglese allora lì vediamo quanto ci siamo attaccati, no? Ecco, questa è una cosa, è un'osservazione raffinata, no? Non va a trovare l'attaccamento in chi, diciamo così, sarà nel naso per quanto è rigidamente aderente a questo ma proprio in chi fa il gioco postmoderno, ovviamente non è questo il linguaggio di Orwell di dire, io sono al di fuori tutto questo, sei al di fuori tutto questo, salvo il momento in cui ti incontri qualcuno che c'è al di fuori davvero, allora vedi quanto in realtà sei attaccato, no? Orwell dice tutti noi inveiamo contro le distinzioni di classe ma sono pochissimi coloro che vogliono seriamente abolirle questo è un discorso che come G.G. stesso esplista mette alla prova, no? Tutta una certa intellettualità e sinistrosa, no? E ripetiamo, Orwell era un socialista quindi non è un caso in cui, che succede spesso in G.G., che non solo in G.G., di quelli che vanno a trovare un autore appartenente alla più forte conservazione, al pensiero più fortemente conservatore per svelare alcuni meccanismi che il pensiero progressista o liberale nasconde ci sono pagine di Barck o di De Maestres, no? Pensate, un conservatore inglese o un conservatore francese, che sono molto utili per capire certe dinamiche che risultano come nascoste dall'ideologia liberale qui però è un'operazione diversa, ecco, qui è un socialista che fa una critica a la postura che fa obiezione alle divisioni di classe ma solo a parole quindi continua Orwell qui il fatto importante è che qualsiasi opinione rivoluzionaria trae parte della sua forza dalla segreta convinzione che nulla si può cambiare ecco che accusa di ipocrisia, no? Quella critica finché è solamente questione di migliorare le sorti dei lavoratori ogni persona onesta è d'accordo ma purtroppo non vai molto lontano semplicemente augurandoti che le distinzioni di classe scompaiano più precisamente è necessario desiderare che scompaiano ma il tuo desiderio non ha alcuna efficacia a meno che tu non comprenda cosa questo implica e cosa implica? il fatto che deve essere affrontato è che abolire le distinzioni di classe significa abolire una parte di te eccomi qua, un tipico appartenente al ceto medio è facile per me dire che voglio sbarazzarmi delle distinzioni di classe dovrei modificare completamente me stesso al punto che sarei a malapena riconoscibile come la stessa persona ecco il punto decisivo laddove le distinzioni di classe si reggono su una parte di consuetudini tacite volerle abolire significa abolire queste consuetudini e nella misura in cui quelle consuetudini strutturano la nostra identità vuol dire essere pronti a modificare radicalmente se stessi sempre interessante quando si ragiona sulle prospettive rivoluzionari capire che cosa implicano allora scoppia la pandemia ci rendiamo conto che perlomeno la rapidità di diffusione del virus è anche legata o più o meno indirettamente dipendente dal nostro modo di vita il fatto che non abbiamo subito le mascherine dipende anche dal fatto che dislochiamo la produzione dal fatto che usiamo prodotti che sono prodotti a milioni di chilometri a migliaia e migliaia di chilometri da dove ci troviamo eccetera tutto questo ci porta a dire dobbiamo cambiare e dobbiamo cambiare vuol dire che cambia praticamente le nostre abitudini cambia concretamente il nostro modo di vita ecco fino a che non arrivi a vedere che cosa concretamente può significare che devi trasformare qualcosa di te rischia ci dice Orwell di essere una mera dichiarazione ancora un passo di Orwell cita che è quello che richiamavo poco fa le opinioni di sinistra dell'intellettuale medio sono per lo più spurie per puro spirito di imitazione di legge alle cose in cui crede come esempio tra i tanti prendiamo il codice d'onore della scuola privata con il suo spirito di squadra il suo non colpire un uomo quando è a terra e tutte quelle altre familiari fesserie dice tutti siamo capaci di riderci sopra si è lo spirito di squadra eccetera ma è un po' diverso quando incontri qualcuno che ci ride sopra da fuori proprio come noi passiamo la vita a insultare l'Inghilterra ma andiamo su tutte le furie se uno straniero dice esattamente le stesse cose solo quando incontri qualcuno che appartiene a una cultura diversa dalla tua cominci a renderti conto di cosa sono veramente le tue credenze cioè quelle che strutturano la tua identità ma non nel senso che allora le devi proteggere questa è l'inferenza conservatrice che non c'è né in Orwell né in Gijek può essere benissimo che tu le metti in questione solo che il punto è che devi capire che devi arrivare a mettere in questione te stesso la tua identità non semplicemente qualcosa di più o meno esteriore la messa in questione del quale si realizza semplicemente nel riderci sopra ecco l'ironia la virgolettatura il mettere tra parentesi sono cose tanto semplici quanto effimere mettere in questione vera me hanno una loro utilità ma insomma oggi soprattutto sono diventate luoghi di soddisfazione immaginaria troppo facile no? troppo facile si siano capaci a fare l'ironia allora il punto è che ci sia il cambio vero e perché ci sia il cambio vero devi essere pronto a cambiare te stesso a cambiare te stesso